L'euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollaro usa quota 1,0818 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0693. Migliora ancora il sentiment degli investitori in Europa, che si è attestato a meno 17,5 punti, oltre le attese. Il biglietto verde scende nei confronti dello yen. Il cambio dollaro usa yen quota 129,99, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 131,82. Attese in peggioramento le condizioni economiche del Giappone a novembre, con il leading indicator pari a 97,6 punti. La sterlina recupera nei confronti del biglietto verde e scambia quota 1,2214 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista a 1,2130. La Fed potrebbe aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale nella prossima riunione. L'euro scende moderatamente nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia 140,57, con la nuova area di resistenza vista a 142,10. A novembre, la disoccupazione si conferma ai minimi storici nell'area euro, con il tasso di disoccupazione stabile al 6,5%. Grazie. Grazie.